La maschera è stato decidono che stendono in stato di emergenza per combattere la Covid-19, ma come la comunità di Ballon, la capitale ha detto che la cumpri regra di stato di emergenza, e che le regra di distanza sociale non usano la maschera. Il abitante Agostino non rogge la polizia del municipio, ha detto che la socializzazione di stato di bairro, ma come la comunità di Ballon compreende la regra di stato di emergenza. Il abitante Agostino non rogge la polizia del municipio di linea di treno, ma come la observazione del municipio di linea di servizio durante il neutro. Il abitante Agostino non rogge la polizia del municipio di linea di servizio. Il abitante Agostino non rogge la polizia del municipio di linea di servizio. Il abitante Agostino non rogge la polizia del municipio di linea di servizio.